Bentornati in Voce delle Chiese, continuiamo il nostro viaggio di oggi, la nostra puntata con un approfondimento particolare. Parliamo di erbe, di specie botaniche attuali e passate e lo facciamo partendo da una pubblicazione che io mostro a chi ci sta guardando in tv sul canale 87 del Digitale Terrestre ma spieghiamo ovviamente subito anche a chi invece ci sta ascoltando solo in radio e intanto saluto il nostro ospite ovvero Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Ciao Davide, bentornato. Ciao Daniela, buongiorno e buona giornata a tutti. Buona giornata anche a te, Davide ci hai portato l'erbario di Eduard Rostan, studi botanici nelle valli valdesi. Beh, è un libro bello spesso con un sacco di immagini di erbe, erbe, fiori raccolti da Eduard Rostan. Io partirei da chi è stato, chi fu Eduard Rostan Davide? Beh, Eduard Rostan era uno scienziato, potremmo definirlo oggi, uno scienziato a tutto tondo. Lui era un medico che esercitava in Valchisone e Germanasca per gran parte della sua vita, ma era anche un botanico, una persona non solo appassionata ma che ne sapeva di botanica, che l'aveva praticata, che ha continuato per tutta la vita a praticarla. Una persona che aveva rapporti con botanici un po' in tutto il mondo, perché faceva quello che di solito facevano e fanno tuttora, ho scoperto, i botanici. Cioè raccolgono informazioni, all'epoca raccoglievano proprio fisicamente alcune piante e poi se le scambiavano. Oggi è più semplice se si vuole o ci viene più veloce spiegarcelo dicendo vabbè io ti mando con whatsapp un'immagine della pianta e tu mi rispondi oppure prendi questa mia digitalizzazione fra virgolette e la esponi, la fai vedere. All'epoca bisognava proprio scambiarsi fisicamente i fogli, cioè i fogli d'erbario dove le piante, io la sto facendo molto banale, molto semplice, chi è esperto di queste cose si metterà le mani e i capelli di come sto descrivendo io la cosa. Però nella sostanza era questo, cioè alcune piante che lui raccoglie le invia e c'è questo scambio. Quindi c'è questo scambio e questi rapporti internazionali oltre che nazionali. È una persona che sapeva anche capire di che tipo di piante stava parlando, a cui vengono dedicate alcune, una in particolare l'agenziana apporta il suo nome perché lui l'ha scoperta, una persona a cui piaceva o aveva l'utopia in mente di provare a descrivere un territorio, le valli valdesi alla fine, ma inizialmente lui pensava anche in qualcosa di un po' più grande, il Piemonte, attraverso le sue piante. Ed è per quello che non nasce questo volume, che è un qualcosa che nasce adesso, ma nasce l'erbario Rostan, che racconta, è l'erbario che raccontava le valli valdesi attraverso le sue piante. E che è custodito alla fondazione. Attualmente è custodito alla fondazione, è stato per quasi 150 anni al Collegio Valdese, perché Edouard Rostan aveva pensato di dare il suo erbario, o meglio quella parte del suo erbario, al Museo Valdese nel 1889, quando nasce il Museo Valdese. E addirittura abbiamo ritrovato il luogo dove, cioè la descrizione del luogo dove doveva stare questo erbario. Però prima di arrivare da noi, si pensa di farlo passare attraverso il Collegio Valdese. Perché? Perché al Collegio Valdese c'era un professore, il professor Maggiore, che ne capiva quanto Rostan, collaborava con Rostan, e Rostan avrebbe potuto collaborare con lui per finire il riordino. Ci hanno lavorato, l'hanno migliorato, soprattutto l'hanno usato con gli studenti. E poi Rostan è morto, Maggiore è andato avanti con il suo lavoro, poi è morto anche Maggiore, ed è rimasto lì, questo patrimonio più importante erbario, che col passare del tempo è diventato un erbario storico. Qualche anno fa abbiamo riscoperto questa storia e a quel punto abbiamo detto no, lo incameriamo noi, in accordo ovviamente con il liceo valdese, non perché noi siamo più bravi, ma perché possiamo, facendo questo di mestiere, metterci in contatto con il Museo di Scienze Naturale di Torino, per esempio, che ha fatto la digitalizzazione e adesso poi verrà portata al Museo Valdese, sostanzialmente, per renderla fluibile, insomma. Infatti questa era proprio una particolarità su cui volevo arrivare e che volevo chiedere a Davide Rosso, perché giustamente ci ha spiegato questa storia antica dell'erbario, una storia in alcuni casi che parla anche proprio di manualità, un erbario che è stato utilizzato fortemente, però adesso per poterlo nuovamente, per poterne fruire nuovamente, chiaro che non è che si può andare a sfogliare l'erbario originale, ecco che entra in gioco questa importante digitalizzazione, proprio per permettere anche una fruizione maggiore di questo elemento importante dell'app, dello studio che è stato fatto dallo stesso Rostan. Sì, il progetto consiste in questo, cioè nel dire, va bene, trasportiamo questi fogli, sono alcune migliaia, da una sede all'altra, ma prima facciamo un lavoro di digitalizzazione, cioè non è semplicemente scansionare il foglio, quello è già un lavoro, ma, tra l'altro è un lavoro che bisogna saper fare, perché, come immagino, sappiate, un foglio di erbario contiene, ha al di sopra una pianta disidratata, diciamo seccata, molto delicata, e quindi è molto fragile. E quindi ci siamo affidati al Museo di Scienze Naturali per la digitalizzazione, prima per la disinfestazione eventuale dei vari fogli, e poi a questo punto noi incamereremo l'erbario originale, che sistemeremo in apposite teche, e, dall'altra parte, tutta la parte di digitalizzazione, cioè questi fogli in formato digitale, con le relative schede e quindi con i relativi nomi, per esempio, per dire una cosa, non so se lo sapete, ma le piante nell'arco del tempo cambiano nome, hanno questa particolarità, hanno un nome comune, un nome scientifico che si evolve in qualche modo, e quindi avremo anche questo racconto, e poi tutto questo sarà a disposizione del nostro pubblico. Ovviamente non si potrà toccare l'erbario, ma si potranno sfogliare i fogli in digitale. Tutto questo, non l'ho detto ancora, ed è importante dirlo, lo stiamo facendo in collaborazione con l'Associazione Amici del Collegio Valdese. Ci tengo a dirlo perché, in qualche modo, il progetto parte da loro, poi ovviamente noi ci siamo subito accodati, anzi l'abbiamo fatto nostro, però è bello anche dirlo. Assolutamente, sì, un lavoro di rete importante, così come in effetti si ritorna un po' alle origini, è stato un lavoro di rete anche lo stesso erbario raccolto da Eduard Rostan, grazie alla collaborazione di altri scienziati, come lui, con cui scambiava questi elementi presenti nei suoi documenti, e poi, insomma, di colleghi che l'hanno aiutato. Ma quante specie ci sono raccolte nell'erbario? Più o meno, circa? Centinaia. Centinaia, ok. Dare un numero a me è difficile, forse Renato Nisbet, che è il curatore del volume, potrebbe dare una cifra, ma non so se anche lui avrebbe forse qualche problema a raccontare in questi termini l'erbario, lui sicuramente avrebbe più facilità di me a raccontarvi invece che cos'è un foglio, come si raccoglie. Certo, molto interessante tra l'altro come si fa a schedare, a catalogare, insomma, tutti questi elementi naturali, elementi naturali che in buona parte ci sono ancora, credo, nelle nostre valli. In alcuni casi, credo, siano spariti. Ed è anche questo un po' l'obiettivo di un altro progetto di cui ci parlavi fuori onda, Davide, che vuole mettere in pratica un po' la scoperta di queste erbe, di questi studi botanici che fece Eduard Rostan ai suoi tempi. Sì, allora, l'idea parte da un'idea di Eduard Rostan stesso e del professor maggiore all'epoca, quindi stiamo parlando di fine ottocento, sembra... Sì, è vero, non avevamo inquadrato il periodo. Sì, sembra di dire, vabbè, non è che siete proprio avantissimo riprendendo un progetto di fine ottocento, in realtà era un progetto molto buono, che ovviamente oggi va tradotto. Il progetto qual era? Ho un erbario, una serie di fogli che raccontano in qualche modo il territorio che io ho intorno, prendo i miei studenti, gli studenti del collegio all'epoca, e li porto a percorrere un sentiero nelle valli e faccio incontrare a loro le piante che hanno visto nell'erbario. e quindi è un modo per vivere, appropriarsi, conoscere meglio il proprio territorio. Una lezione sul campo? Una lezione sul campo. All'epoca la lezione a volte si trasformava anche nel raccogliere un pezzo di campo, portarlo a casa e trasformarlo in un erbario. Oggi lo sconsiglio, non è quello il nostro obiettivo, oggi si può fare la stessa cosa facendo una fotografia. Però il fatto di poter andare accompagnati da qualcuno, scoprire un pezzo del nostro territorio in questo modo, viverlo, quello si può fare e si può organizzarlo. Allora l'idea che stiamo portando avanti, sempre con l'associazione Amici del Collegio Valdese, è quella di creare un itinerario, probabilmente sarà nel comune di Bobbio Pellice, ma non ha molta importanza il luogo. In quel caso ce l'avrebbe perché si legherebbe a un'altra storia, a quella dei valdesi del Keira, che sono emigrati nelle valli valdesi, portandosi dietro, magari attaccate alle scarpe, dei semi, delle piante, o magari nella borsa, perché servivano per coltivarle. L'idea è questa qua, è semplice in sé, cioè creare un percorso in cui si scopre la natura, la storia, il vivere sul territorio, farlo attraverso le piante, attraverso quello che ho intorno. Prima parlavi di territorio che cambia, e io adesso ho citato gli ugonotti che dal Keira sono immigrati nelle Val Pellice. Molte delle piante che Rostan attestava nel suo erbario, oggi non esistono più alle valli. Non esistono perché si sono estinte, perché sono state sopraffatte dalle piante che sono arrivate emigranti e si sono installate. Qui non esistono perché magari si sono spostate loro, e sono loro che sono andate da un'altra parte. semplicemente. Non esistono perché c'è stato un cambio climatico, quindi anche lì più siccità o meno siccità vuol dire un certo tipo di piano. Tutto questo lo puoi scoprire camminando, guardandoti intorno, solo che devi saper guardare o avere qualcuno che ti aiuta a guardare. E' certo. Quindi in attesa di questo progetto, di cui adesso Davide ci ha giustamente solo accennato, è un progetto in divenire, quindi magari torneremo ancora, anzi sicuramente torneremo ancora a parlarne. La tempistica è questa primavera, inizio estate. Ok, beh, insomma, già è addirittura d'arrivo, ecco, non è una cosa così ipotetica. Io davvero invito chiunque fosse rimasto un po' incuriosito, interessato, a contattare la Fondazione Centro Culturale Valdese e chiedere informazioni su questo volume, questo quaderno del patrimonio culturale valdese, il quaderno numero 9, l'erbario di Eduard Rostan, studi botanici nelle valli valdesi, oltre a essere anche molto bello graficamente, perché poi rappresenta le pagine appunto dell'erbario originale, racconta tante cose interessanti del nostro territorio e quindi insomma è un bel modo per scoprire le valli valdesi attraverso la botanica. Lo facciamo ancora vedere a chi ci sta guardando anche in diretta video. Davide, io ti ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione, quindi nel progetto dell'itinerario. Grazie, grazie di aver dato spazio a Eduard Rostan e al suo erbario e se mi invitate vorrei poi a parlarvi dell'itinerario quando ci sarà in primavera. Assolutamente sì, assolutamente sì, ci diamo questo appuntamento, grazie per ora per essere stato con noi, e noi continuiamo con la musica.